benvenuti alla quattordicesima edizione del mediterranean challenge cup che quest'anno si sta svolgendo al bowling pedralbes qua a barcellona in catalunia abbiamo qua con noi il team italiano benvenuti vi volete presentare elga di benedetto marco reviglio come come vi siete trovati qua come come vi trovate dentro del della dinamica della mediterranean challenge cup allora il torneo devo dire abbastanza interessante le condizioni ci stanno veramente facendo impegnare tantissimo abbiamo trovato delle condizioni devo dire non molto facili dove comunque bisogna essere abbastanza precisi non vi è molto margine quindi questo comunque ci tiene sicuramente molto più impegnati come sono stati i vostri risultati fino ad adesso ma io ho fatto terzo nel singolo e oggi nel doppio purtroppo abbiamo fatto sesti non ho giocato male il mio socio mi è mancato un po verso la fine comunque un bel sesto posto speriamo per la squadra adesso io sto lottando per l'all events spero di farcela e come quante possibilità vedete per l'italia per il team italiano riusciremo a vincere noi ce la metteremo tutta sicuramente forse c'è qualcuno che ha bisogno di una spintarella magari da parte di chi in questo momento ha avuto qualche difficoltà in meno quindi marco cercherà di aiutarci un po tutti sì sono abituato a aiutare abbastanza spesso i ragazzi soprattutto i chiamiamoli i novizi quelli che arrivano magari per la prima volta o hanno girato poco con la nazionale allora hanno più difficoltà e oggi magari nella squadra cercheremo di dare l'anima e magari cercheremo un'altra medaglia a meno nella squadra bene buona fortuna allora grazie grazie a tutti